bella pezzi di cuore bentornati sul canale ciao a tutti allora prima di cominciare e procedere con l'estrazione del vincitore del primo contest adrenani xl cacciatori 2021 voglio salutare ci tengo tantissimo a farlo francesca stasi samuel russo stefania crinella cristian pecoraro vai saluta anche tu cristian rischiatore raschiatore mamma mia dino ghizzoni michela mart josé maria melendres e low we win il quale ha precisato che questa settimana se non è oggi compie gli anni fa gli auguri quindi tanti tanti auguri da parte nostra allora ho detto ciò a povanzini pure forello l'ho messo qui in alto a destra perdonami però il foglio era praticamente finito terminato pieno di scritte e via dicendo quindi a tutti voi un bacio e un abbraccio forte allora andiamo per gradi perché qua bisogna far capire la situation adesso noi che cosa faremo qui innanzitutto ci sono tutti i nominativi dei partecipanti non me ne è scappato nemmeno uno guardate un po io poi faccio la vecchia maniera quei fogliettini ecco qua come facevo tantissimi tutti tutti da prima all'ultimo poi 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 andiamo per cadere che voglio fare le cose fatte bene è stata massentino schippate perché poi se me fate domande ovvie io non vi prendo in esame e non vi rispondo è non è cattiveria però veramente cerco sempre di essere esaustivo allora per innanzitutto qui gli nominativi ne straderemo uno perché l'unico vincitore di un unico premio il quale adesso matteo vi farà vedere vi rinfrescherà la memoria procedi pure intanto che io parlo questi sono praticamente il premio delle carte sì praticamente come funziona una volta estratto il nominativo io innanzitutto sotto a cui in questo video sotto questo video metterò un commento fisso dove io andrò a chiedere al vincitore i dati per poter ricevere il premio a casa a meno che non abiti a roma e c'è la possibilità di incontrarsi di persona e scambiare a mano appunto il premio non è un problema per me poi mi raccomando ragazzi io poi specificherò che cosa serve per poter ricevere il premio a casa è molto semplice non c'è niente di rischioso non c'è niente a cui dovrete pagare e bla 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 tutto tutto sotto controllo tutto garantito anche se alcuni dio mi ha chiesto ma se io dovessi abitare in puglia non è un problema tu mi lasci l'indirizzo il nome e cognome e te lo faccio avere a casa non è un problema a mie spese sia chiaro non paga niente nessuno solo ed esclusivamente il sottoscritto va bene intanto tu che mostri le carte che altro dire non credo che ci sia altro da aggiungere vero ha detto tutto sei sicuro che se poi manca qualcosa con chi ma prendo col muro con il muro va bene ed ecco qui la tempesta azzurra ok ho voluto anticipare l'estrazione credo non aver detto questa cosa di un giorno perché questa settimana ci saranno tantissime uscite di adrenalin a partire dalla team box si spera anche la rivista bomber con le prime limited edition e il 3 ottobre dovrebbe anche uscire bravissimo le bussine con il box con il secondo tempo e le bussine premio la bussina premio in oro quella da 10 euro e cia 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 comunque appena io a disposizione il materiale io ve lo porto qui detto ciò a te l'onore e l'onore di estrarre il vincitore perché non voglio colpa di alcun tipo colpe di alcun tipo vai da una bella mischiata come vuoi tu insomma a tuo piacimento occhio qui sempre e finalmente sapremo il vincitore del primo contest io vi come posso dire vi dichiaro apertamente ufficialmente che questo non sarà il primo e l'ultimo ma un primo di una lunga serie frase fatta però è l'unica cosa che vi posso dire quindi continuate a seguirmi e iscrivetevi se ancora non avete fatto anche se solitamente solitamente questo lo devo dire i miei contest sono aperti a tutti non serve essere iscritto al al canale basta così detto ciò vai vediamo un po tra tutti i nominativi che veramente ragazzi l'ho fatto personalmente nome per nome vado vai l'ultimo di immaginario francesco francesco c molto bene allora francesco c caro francesco c sei il vincitore del primo contest e cosa non che non ho detto ai 33 giorni di tempo facciamo due ha visto che io due giorni ho chiuso la stella il contest ai due giorni di tempo per contattarmi anzi per rispondere al commento che lascerò fisso sotto questo video con i tuoi dati tanto non ti preoccupa pure se li metti pubblici a nessuno importa perché nessuno viene rubato tranquillo proprio ok o se no mi dici guarda sono io e io te ci aggiungiamo su instagram su facebook insomma un modo lo troviamo un social per poter scambiarci appunto i dati per ricevere il premio eccolo qui ricordo a tutti quanti va bene complimenti a francesco c sì e ci salute vabbè ragazzi io questi li tengo magari alcuni di voi vorranno continuare a partecipare no che dici le faccio carta straccia per una prossima e nuova e nuovo contest che altro niente non posso così va bene ragazzi io non so che dire grazie per aver guardato il video spero insomma che vi sia piaciuto mi raccomando fate i bravi e sempre a testa alta ciao a tutti ciao raga